Ci sarebbe stato all'interno della casa più spia d'Italia, ossia la casa del grande fratello Bip, un insulto che la brava e simpatica Katia Ricciarelli avrebbe pronunciato, avrebbe diciamo così detto, nei confronti di Jessica, Serassie o Serassie. I fan diciamo che sarebbero diventati subito furiosi, infatti molti avrebbero urlato che vada via fuori da subito, che vada via e vada a togliersi dalla casa del grande fratello Bip. Insomma, a poco più di una giornata, di due giornate di tempo, Katia Ricciarelli diciamo che avrebbe fatto diverse esternazioni che avrebbero fatto infuriare non poco internet, il web intero. Infatti la famosa soprano gli sarebbe resa protagonista di una nuova Karel, avrebbe detto a Clarissa, una delle principali eserassie, diciamo così, un insulto, un insulto per quanto riguarda la forma fisica, avrebbe pronunciato, no? Ed ecco che su web tutti sono scatenati, hanno detto, deve andare via, non deve tenersi in casa, deve essere eliminata, perché non si fanno questi insulti, non possono essere pronunciati. Insomma, un giusto dirne è piaciuto a molti, ma che comunque non è passato di farlo inosservato. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narrato Vitaliano, commentatevi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.